Ci ha lavorato da tempo, questa è la seconda doggy area dopo quella di via Piazza Armerina via Le Scala Greca, un po' più piccola forse, unica, però uno spazio verde per i cani anche nella zona sud della città? Piccola ma funzionale, diciamo sempre questo, è diventata una doggy area perché purtroppo la zona sud della città che era scoperta, in particolar modo quella di piazzata dove c'è una densità di popolazione molto alta e ci vedeva concentrati su questa zona della città, confrontandoci con il consiglio di quartiere Neapolis scopriamo che nelle disponibilità come abbiamo detto nella precedente intervista del comune dal 1999 pagavamo la concessione, l'unico motivo per cui non era mai stato utilizzato da parte del comune è perché diventava ingresso per l'accesso all'area dei mulini spagnoli, con questo tipo di sistema facendo gli interventi che abbiamo fatto all'interno dell'area abbiamo unito l'utile al dilettevole, quindi possiamo realizzare la prima area cani nella zona sud della città e non creiamo disagio alla sovrintendenza qualora voglia accedere con mezzi pesanti per la pulizia nell'area di sua competenza. Abbiamo fatto come dicevo prima due tipi di interventi, l'installazione di un cancello carrabile al limite del confine con l'area di competenza e la sovrintendenza, abbiamo fatto una modifica al cancello pedonale di ingresso della zona esterna con l'installazione di un cancello carrabile con la chiusura interna ed è fondamentale per cui oggi chi usufruisce dell'area deve chiudersi all'interno in modo tale da giocare in totale sicurezza col proprio cane, abbiamo ripristinato parte di ringhiere che c'erano dalla parte interna, abbiamo fatto una bonifica totale dell'area, abbiamo ripristinato l'impianto di illuminazione, abbiamo installato un ribbonetto per l'erogazione dell'acqua con le ciotole quindi per dare ristore ai cani qualora ci fosse caldo, abbiamo installato delle panchine, abbiamo installato un distributore sacchetti che ricordo a tutti gli utenti che il distributore dei sacchetti è utile nel momento in cui rimani a corto di sacchetti, non è l'utenza iniziale perché spesso e volentieri il rotolino non dura neanche un giorno, questo serve come riserva? qualora l'utente rimane sprovvisto può attingere a quello e quindi oggi possiamo dire che anche la zona sud della città e in particolar modo la zona di piazzada ha un bellissimo parco per i bambini e quindi togliamo le prime polemiche che si pensa ai bambini o non si pensa ai cani e abbiamo anche pensato ai nostri amici a quattro zampe che possono tranquillamente scorazzare all'interno dell'area in sicurezza con la tranquillità del proprio padrone